Mr. Giuseppe Conte, Mr. Prime Minister, please. Rivolgo un caloroso saluto al Vice Primo Ministro Zung, al Presidente Vu Tien Locke, Presidente della Camera di Commercio e Industria Locale, e al Sindaco di Hanoi Zung e a tutte le autorità vietnamite presenti. Rivolgo un caloroso saluto a tutti gli ospiti. Senza nulla togliere agli altri, permettetemi di rimarcare anche come la numerosa presenza della business community italiana rimarca un reale interesse per questo dialogo tra l'Italia e i Paesi membri di questa comunità dell'ASEAN. Rivolgo anche qualche ringraziamento, se mi permettete, al Managing Partner, Dottor Valerio De Molli, della The European House Ambrosetti, che ovviamente ha consentito la realizzazione di questo evento, e al Presidente Enrico Letta dell'Associazione Italia ASEAN. Come è stato detto e ricordato, il Presidente Enrico Letta ha avuto la possibilità in passato di ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano e quindi ha avuto anche lui, come io adesso, l'onore di poter servire il proprio Paese al massimo livello, nel più alto ufficio. Permettetemi infine anche un ringraziamento all'Ambasciatore Antonio Alessandro, perché quando è considerato questa visita un gran successo per il sistema Italia e sicuramente dietro una visita di successo come questa c'è anche ovviamente la fattiva operosità dell'Ambasciatore locale. Quindi grazie ancora, Ambasciatore Alessandro. Dicevo il numero, il livello anche delle aziende presenti qui oggi e molte giunte appositamente dall'Italia confermano il successo di questa iniziativa e anche il crescente interesse dei nostri operatori economici per l'area ASEAN e, se mi permettete, vista anche la mia presenza, del governo italiano. È stato detto anche al Presidente Letta, sì, qui si fa sistema e noi oggi facciamo sistema dimostrando ai vari livelli istituzionali e economici che c'è un reale interesse a lavorare insieme verso il perseguimento di un obiettivo comune. Il processo di integrazione dell'ASEAN rappresenta un contributo importante per la stabilità e la prosperità della regione e del mondo. L'Italia crede fermamente nell'esigenza di un multilateralismo efficace. Nessun Paese nel contesto di sfide globali può agire isolato. La globalizzazione ormai l'abbiamo studiata sviscerata in tutti i suoi aspetti ha portato crescita ha portato progresso in molte aree del mondo ma anche molti scompensi molte tensioni e questi ultimi non sono stati affrontati con la dovuta consapevolezza negli ultimi anni. È necessario quindi lavorare insieme per una risposta strutturata ed efficace alle sfide globali. L'ASEAN è uno degli esperimenti di integrazione regionali di maggior successo in quanto tale rappresenta direi un valore aggiunto per l'intera comunità internazionale soprattutto oggi in un mondo alla ricerca di soluzioni condivise per tanti problemi comuni. Rispetto ai suoi inizi parliamo ormai del lontano 1967 la sua rilevanza è cresciuta sotto ogni profilo tanto che oggi si parla e direi a ragione del miracolo ASEAN una regione di quasi pensate a 650 milioni di abitanti l'8% della popolazione mondiale che costituisce un'area economica ed è stato detto più volte prima di me di eccezionale dinamismo con una crescita media del PIL che più o meno si si inquadra intorno al 5% i 10 paesi ASEAN offrono un contributo chiave alla stabilità e alla crescita mondiale l'avvio dell'Asian Community nel dicembre 2015 ha segnato una tappa importante per lo sviluppo e la crescita del sud-est asiatico ma direi anche ha offerto un grande contributo anche alla stabilità e alla crescita rispetto al resto del mondo l'Italia desidera contribuire attivamente a questo percorso a questa storia di successo nello spirito di amicizia e di partenariato che ci unisce siamo la terza economia dell'Eurozona la seconda base manifatturiera d'Europa con una naturale vocazione all'esportazione il dottor De Molli ha sintetizzato molto efficacemente nelle sue schede gli elementi forti strutturali molto radicati che ci caratterizzano come una delle economie leader addirittura nel mondo e noi guardiamo l'Asian come un partner indispensabile nel 2018 tutto l'interscambio dell'Italia con l'Asia hanno assegnato un totale di 16 miliardi virgola 4 di euro con un aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente esso è nel complesso ben bilanciato riflette la complementarità tra i nostri sistemi economici in questi anni abbiamo peraltro assistito ad un sensibile incremento delle nostre esportazioni trainato dal settore delle macchine utensili e una buona performance delle importazioni nel 2017 lo stock di investimenti italiani nei paesi ASEAN era di quasi 5 miliardi di euro mentre i paesi ASEAN hanno investito complessivamente in Italia circa un miliardo di euro si tratta di risultati significativi ma c'è ampio margine di miglioramento possiamo dobbiamo sfruttare il grande potenziale ancora inesplorato non solo in termini di interscambio commerciale ma anche con il consolidamento di iniziative congiunte e con una maggiore cooperazione industriale puntando sui rispettivi vantaggi comparati anche a questo scopo negli ultimi anni abbiamo organizzato diverse iniziative dirette a diffondere una migliore conoscenza reciproca delle opportunità di cooperazione e l'evento di oggi giunto alla sua terza edizione è un ottimo esempio di quel che stiamo cercando di fare e quindi ringrazi ovvero gli organizzatori per seguire in questa direzione guardiamo poi con interesse con grande interesse all'iniziativa di connettività tra l'ASEAN e l'Europa è evidente la centralità di infrastrutture porti e logistica quali vettori per lo sviluppo economico la crescente interconnessione tra le nostre regioni rappresenta una priorità per l'Italia storicamente e geograficamente al centro delle rotte terrestre e marittime tra Asia e Europa oggi la connettività euro-asiatica rappresenta una grande opportunità per l'Europa e per l'Asia in termini di flussi di merci e di investimenti ma essa pone anche delle sfide sfide che dobbiamo affrontare insieme siamo infatti convinti che la connettività per realizzare al meglio il proprio potenziale a favore di tutti i paesi coinvolti debba necessariamente svilupparsi in un quadro condiviso di principi valori regole e criteri che forniscano un chiaro perimetro di azione e consentano come dire di coordinare tutte le iniziative si tratta dei principi e valori peraltro delineati con chiarezza nella strategia dell'Unione Europea sulla connettività euro-asiatica che deve diventare un punto di riferimento lo è già per l'Italia in materia sinergie e collaborazione troveranno un ambiente propizio per svilupparsi in una connice di inclusività e trasparenza nel rispetto dei migliori standard di qualità la sostenibilità in ogni sua dimensione quindi economica fiscale sociale ambientale deve rimanere il nostro principio guida in aderenza agli obiettivi dell'agenda 2030 che ispirano la comunità internazionale nei suoi sforzi di promuovere lo sviluppo globale accanto alla connettività fisica vi anche la connettività umana cioè lo scambio di conoscenze lo scambio tra persone l'istruzione la cultura la ricerca il turismo la mobilità di studenti ricercatori contribuiscono a una rete di sapere comune facendo davvero il proprio catalizzatore per lo sviluppo della connettività fisica e per il miglioramento di quella istituzionale anch'io durante le mie visite ufficiali cerco sempre di rimarcare l'importanza di questo aspetto ieri durante la visita con l'incontro bilaterale con il presidente Fuc ci siamo scambiati un po' di dati abbiamo per esempio un migliaio di studenti vietnamiti che studiano italiano siamo detti dobbiamo incrementare questo numero perché incrementare questo numero significa creare una base di interesse reciproco tra i nostri paesi e quindi creare le migliori premesse anche per incrementare i flussi e le relazioni economico-commerciali allo stesso modo abbiamo passato un po' operato una ricognizione degli scambi culturali tra centri di ricerca tra università ci sono scambi per oltre cento scambi sono un numero cospicuo ma si può fare sempre di più la messa in opera dell'ampio masterplan ASEAN in materia di infrastrutture sostenibili innovazione digitale logistica e mobilità offrirà una solida base su cui costruire ulteriormente la nostra collaborazione sarebbe però limitativo e mi avvio a conclusione considerare l'ASEAN solo per la sua dimensione economica l'ASEAN è un attore essenziale anche attenzione per l'architettura di sicurezza regionale e per la prevenzione dei conflitti al di là degli aspetti strettamente bilaterali dei nostri rapporti l'Italia sostiene con convinzione in seno all'Unione Europea il rafforzamento della cooperazione biregionale sul piano economico e commerciale anche attraverso lo sviluppo di una retina di accordi di libero scambio e in particolare per quel che poi riguarda i rapporti bilaterali nel quadro c'è Unione Europea Vietnam sapete che stiamo per finalizzare un accordo di libero scambio adesso nel mese di giugno ci sono delle residue questioni di ordine tecnico ma stiamo siamo ormai in dirittura di arrivo ma dobbiamo anche estendere questo sviluppo e questo sviluppo dei rapporti a nuovi ambiti quali la messa in opera dell'agenda 2030 la sicurezza regionale fondata sul rispetto del diritto internazionale e anche stenderlo alla lotta al cambiamento climatico la lotta al cambiamento climatico in particolare è un impegno che sicuramente ci unisce l'Europa e il sud est asiatico sono ugualmente esposti alle conseguenze delle temperature in crescita e ugualmente possono trovare nell'azione volta alla mitigazione di tali fenomeni delle importanti opportunità di sviluppo economico tecnologico sociale un fenomeno come il cambiamento climatico che mette in pericolo la vita il benessere della nostra generazione delle future generazioni richiede risposte comuni che non possono che muovere e radicarsi nella piena e rapida attuazione degli accordi di Parigi per concludere dunque l'ASEAN e l'Unione Europea insieme possono offrire un modello di integrazione regionale che può costituire anche uno straordinario volano per la pace per lo sviluppo sostenibile siete sicuri che l'Italia continuerà a fare la sua parte per lo sviluppo di questo partenariato strategico nell'interesse reciproco dei nostri cittadini delle nostre imprese concludo con un auguro di buon lavoro a tutti i partecipanti al forum e se mi permettete rivolgo pubblicamente un sentito ringraziamento al primo ministro Fuc per la calorosa accoglienza che mi è stata riservata dall'istituzione del popolo vietnamita in occasione di questa mia prima visita in questo straordinario paese grazie 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 grazie